In stancabili potrebbe essere l'aggettivo giusto per il nostro team, ma se ho mancare, ci siamo visti qualche minuto fa, abbiamo lasciato via Varda Basso e ci siamo recati immediatamente in via Ciusa 11, zona tra Prunizèda, Luna e Sole, un po' come la zona più ad alta richiesta, siamo ad angolo con via Dalmazia, qua alle mie spalle, via Ciusa 11, un bellissimo complesso, completamente ristrutturato negli ultimi anni, facciate in ordine, appartamento completamente ristrutturato, ecco qua, ugualmente, per chi cerca una casa con tre stanze da letto, soggiorno, cucina, i due bagni, è completamente ristrutturata, infissi, impianti, capitolati, materiali e chi ne ha più ne metta, ci contatti, se hai sempre qualche amico, quel famoso amico, quel famoso conoscente che ti ha chiesto, che ti ha detto, sto cercando casa, non so come fare, dagli immediatamente il nostro contatto, condividi questo video, perché presto questo immobile andrà online e una volta che andrà online, in tutta probabilità nei prossimi 60 giorni verrà venduto, se sei un collega che ha un immobile in vendita qua vicino, visto che il mio caro collega Gianluca De Sì qua ha un immobile su un primo piano in vendita, in via Ciusa sempre, Gianluca contatta i tuoi clienti, tutti quelli che hai portato là dentro, contattaci e li potrai portare qua in via Ciusa 11, un civico più avanti, sono sicuro che ci hai lavorato per molto tempo, ancora l'immobile in vendita, sicuramente questa tipologia potrebbe essere confacente qualche altro tuo collega, chiunque avesse immobili in questa zona e quindi un pacchetto clienti, noi lo abbiamo, però oltre a noi vorremmo collaborare con voi, cari colleghi, per poterlo vendere nei tempi currabili e accontentare i nostri proprietari e i vostri acquidenti, quindi via Ciusa 11, angolo via Dalmazia, tralletto, sala, cucina separata, due bagni a vostra disposizione, ciao!